Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Oggi siamo tornati con JSTARS e sono qui per farvi vedere quanto è veramente OP Medaka. Allora, tagliamo qua tutto. Sarà una cosa dimostrativa, non è che vada a fare un combattimento di quelli in serie. Guardate. Contro. Vediamo. Uno poco fastidioso, tipo Kenshiro. Una stella, così non dà fastidio. E Salus di 80%. Questa è una cosa abbastanza importante e lo scoprirete poi. Direi che va bene. Andiamo. Musica. Un pochino più. Tempo. Nessun limite. Arena. Ci sta. E se partiamo. Ora, per farvi vedere quanto è veramente forte Medaka in questo gioco. Penso la più dopata. Non so perché l'hanno fatta così forte. Vabbè che ci sta, eh. Allora, principalmente come mosse ha questa, che abbassa l'energia, questa che gli fa inchinare, che non era neanche sua. E' la mossa più dopata. Che però dipende dalla vista. Mi sa, questo non me lo aspettavo Kenshiro. Ok. Il Kurokami è franco. Ora, quanto gli ha tolto, secondo voi? Me. Non molto. La Peppa. Non molto. C'è veramente sì perché... Kenshiro non è che puoi fare così per gore. Perché comunque, 80% di vita. Cioè, non sai quanto gli ha tolto. Dipende molto dalla distanza, eh. E ci sta. La Treat, Kurok. Normale. Ora ci trasformiamo. Guarda che gli hanno fatto anche muovere la bocca. Quanto gli ho tolto, se non metà vita, ovviamente a corto raggio. Dovete considerare anche questo. Potete considerare che è a corto raggio. Cioè, forse tolgo il 39% perché bastano due di questi per mandarlo K.O. del tutto. Ora voglio farvi la ultimate. E questo come l'ha fatto? Allora, facciamo un po' di questi per andare in vizio di Bristock. E in sciro si toglie la maglietta. Poi, bene. E gli hanno fatti quattro, mi pare. Comunque, quanto avrà di vita? Non poco di sicuro. Guarda, vedete, quattro torri di l'alte, mate. Ovviamente, sempre da vicino, eh. Cioè, guardate. Guardate, ditemi voi se non male. Cioè, è troppo dopata. Cioè, avete visto quante torri trasformata da vicino? Il dropping. Beh, che ci sta perché è Medaka. È tutto massimizzato. Comunque, ditemi voi se avete sfruttato qualcuno che toglie di più o no. Personalmente penso che la Jet Gatling di Gruffi se la becchi tutta al 100% e sparmici oggi finché la energia tolga come il Kurokami Phantom di Medaka trasformata da vicino. Però non penso ci siano altre mosse così potenti. Poi, se voi l'avete trovato, fatemelo sapere. Ricordate, 80% di vita. Non 100%. Comunque, è trisciotta. Anche se lo prendi non da vicino, trisciotta. E niente, il video è con questo per vedere quanto è dopata a Medaka. E arrivederci.